Fine settimana con tante attività a Piave Fosciana, mentre il Centro Storico Garfagnino ha ospitato due giornate dedicate al cibo in strada, dal titolo In Cammin Mangiando, agli impianti sportivi si svolgeva la prima edizione di Caccia Village. Il Cammin Mangiando si è allargato proprio includendo nella nostra manifestazione il Caccia Village per riuscire ad integrare insieme al proporre i prodotti tipici del nostro territorio anche un'unione con altre associazioni, in questo caso un'associazione venatoria che rientra nel Caccia Village. All'iniziativa hanno partecipato tutte le più importanti associazioni venatorie. Come Fede del Caccia abbiamo aderito subito a questa iniziativa che ci è sembrata importante per il nostro movimento, diamo una mano volentieri e ci siamo prodigati nel fare questa casa del cacciatore, quindi di essere presenti con questo nostro stand. Come dal Caccia abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa perché è una cosa importante per la Garfagnana, fra le altre cose noi prossimo anno saremo presenti e speriamo di portare altre persone, facciamo altre iniziative come gare su cani. Anche noi abbiamo partecipato volentieri come nel Caccia a questa manifestazione sperando che cresca negli anni per il buon andamento della caccia e dell'attività venatoria. La manifestazione è stata l'occasione per molti di provare il tiro al bersaglio con pistola dalla compressa e visionare una vasta gamma di prodotti di abbigliamento adatto alla caccia e alla pesca. Alla due giorni hanno partecipato anche alcuni allevatori di selvaggina da lancio e c'era anche uno stand dedicato al gruppo ornitologico lucchese. Noi siamo un gruppo di ornitologi lucchesi, io sono il presidente, mi chiamo Baggio e come vedi è quello che cerchiamo di fare, cioè propagandare per i giovani soprattutto la voglia di allevare e di avere la vita in mano, proteggere la natura.